Ciao ragazzi, allora rispondo anche alla domanda di Lucia sulla questione del calcolo del voto di laurea. Premetto però che questa questione è diversa da università a università, quindi io vi parlerò di come funziona alla LUIS, ma prendete quello che vi dico con le pinze perché nel vostro caso potrebbe essere diverso, quindi andate a controllare o sul sito dell'università oppure se non c'è sul sito andate a chiedere in segreteria. In linea generale vi posso dire che il calcolo della media in centodecimi, quindi il passaggio dalla media in trentesimi alla media in centodecimi, potete farlo anche voi perché basta fare semplicemente l'operazione media in trentesimi per centodieci e poi risultato diviso trenta. Questo vale per tutte le università e per tutti i corsi di laurea. Una volta che avete ottenuto la vostra media in centodecimi, quello è il voto di laurea da cui partirete. Il punteggio che va ad aggiungersi a quel voto varia da università a università. Ad esempio alla LUIS per la discussione della tesi ti assegnano un massimo di sei punti, che diventano sette per chi discute le cosiddette tesi di particolare merito. Infatti io ho preso sei punti perché mi sono seduta con 102 e ho preso 108. Però possono entrare in gioco una serie di altri fattori. Ad esempio alla LUIS quando mi sono laureata io, adesso questa cosa non c'è più, ti davano un punto se ti laureavi in corso e ti davano un punto se facevi l'Erasmus o comunque l'esperienza internazionale e uno 0,5 se facevi la Summer School. Infatti io ho preso sia il punto per la laurea in corso, sia lo 0,5 per la Summer School perché appunto un'estate sono andata all'estero alla London School of Economics, ho dato un esame là che poi mi hanno convertito appunto come voto italiano e appunto mi hanno abbonato questo mezzo punto per aver fatto questa esperienza all'estero che poi in realtà a me non è servito a molto perché purtroppo non mi ha cambiato tanto la media visto che mi sedevo con 101,9 che arrotondato per eccesso diventava comunque 102 e aggiungendo uno 0,5 mi sono seduta con 102,4 che però arrotondato per difetto rimaneva comunque 102 quindi alla fine ho preso comunque 108. Vi ripeto, questo è quello che accade alla LUIS, ci sono università che danno anche molti più punti, so che ci sono università che danno anche una cosa come 10-15 punti per la discussione della tesi tant'è che so di gente che si è seduta con meno di 100 e che si è laureata con 110 che mi pare un po' assurdo però vabbè e quindi informatevi su questa cosa presso la vostra università perché appunto è diversa da caso a caso e questo riguarda giurisprudenza ovviamente.